Sopria orziacus omentu aghio evangheliu, irini pasin, che lo pnev matissu. Sapienza, ascoltiamo in piedi il santo evangheliu, il santo padre ha risposto, la pace sia con voi, il coro e con il tuo spirito, il diacono, lettura del santo evangheliu, e il coro, gloria a te signore, gloria a te. Sopria orziacus omentu aghi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.